Nonostante i risultati della prima fase a dispetto dei sondaggi, Michele Emiliano continua a dirsi possibilista per una sua affermazione alle primarie del PD che si terranno il 30 aprile. Il governatore pugliese dopo Napoli ha voluto proseguire il suo tour campano anche in provincia di Salerno, non nel capoluogo però, ma a battipaglia. Nonostante l'operazione che lo ha temporaneamente costretto a girare in carrozzella, Emiliano non ha perso la verve e la grinta dei mesi scorsi ed anche dalla città della Piana del Serie ha ribadito la sua voglia di cambiare il PD mettendo fine al rinzismo. Se io vinco le primarie vinciamo anche le elezioni, ricuciamo il paese tra nord e sud, la smettiamo di intimidire, di spaventare le persone, le facciamo lavorare in maniera più armonica, distribuiamo il reddito, diamo nuovamente importanza alla scuola pubblica e soprattutto facciamo politiche di sviluppo del mezzogiorno perché se non ci andiamo noi ogni tanto a governare questo paese finirà che il nord mangerà se stesso nella sua incapacità di avere fiducia in noi, ecco alle volte può succedere in un paese grande come l'Italia una volta ogni vent'anni che ci sia anche qualche leadership del sud, dipende da noi sostenerla, se il 30 aprile molti qui al sud andranno a votare anche per me secondo me abbiamo la possibilità di fare delle cose che in passato altri per conto nostro non sono stati capaci di fare. Nessun problema secondo Emiliano poi con De Luca nonostante la scelta di Battipaglia e non Salerno per la sua nuova tappa campana dove ha presentato anche i candidati della sua mozione con Marco Cucurachi responsabile provinciale. Non mi pare che De Luca mi abbia impedito l'accesso a Salerno, l'ho salutato affettuosamente, mi auguro che non marchi troppo stretto chi vota per me, anche perché non si sa mai, può seppure che prima o poi la nostra amicizia serva anche a lui. Ad accompagnarlo il coordinatore della mozione Emiliano in Campania, Simone Valiante, che a Napoli gli aveva anche regalato un cornetto antisfortuna. Stiamo da Battipaglia per costruire un progetto di Partito Democratico che vuole finalmente costruire un partito nel Mezzogiorno dell'Italia. Il più grande fallimento di Matteo Rezzi è stato proprio il Mezzogiorno. Questo ormai è un dato acquisito e noi vogliamo ripartire da un messaggio nuovo per dire che il Sud è determinante per il futuro dell'Italia, ma anche il Partito Democratico del Mezzogiorno e come lo si costruisce nel Mezzogiorno è determinante per quello che sarà il futuro di tutto il centro-sinistra nel nostro Paese. Questo è il messaggio che affidiamo a un leader forte, autorevole di una grande regione del Mezzogiorno che credo possa rappresentare un messaggio politico nazionale di novità con la giusta autorevolezza forse da quale oggi ha bisogno il Mezzogiorno. Grazie. Grazie.